Allora, buonasera a tutti, ciao a tutti, a seconda di quando lo guarderete questo video, volevo fare una piccola serie di video introduttiva sull'idealismo tedesco, presentando non solo una specie di mini ripasso della filosofia di Kant, della filosofia teoretica pura, della critica della ragion pura di Kant, e poi anche una piccola presentazione dei tre autori che di solito principalmente nei manuali servono di solito per introdurre Fichte, ecco, non sono tanto tematizzati perché non sono autori così importanti nell'economia della storia e della filosofia. Questo non significa che non siano autori assolutamente interessanti, che non siano autori che hanno un peso, tuttora un peso teoretico particolarmente rilevante, cioè i cosiddetti post-Kantiani, Reynold, Schulze e Mainan. Vi chiedo scusa da adesso se faccio piccoli video staccati uno dall'altro, ma se ne facessi uno anche solo di dieci minuti ci metterei una giornata a paricarli, perché ovviamente adesso, a causa di questa brutta questione del coronavirus e della quarantena, o come si chiama, isolamento sociale, social distance, eccetera, siamo tutti a casa, quindi i server, avrete notato, sono tutti impallati, internet va in media alla metà della velocità e in più a casa qui guardano tutti in streaming roba su Netflix o cose così, quindi ho internet che sembra di essere nel 2005, va bene? E quindi facciamo dei video molto piccoli. Allora, questo video lo faccio proprio di presentazione. L'idealismo tedesco è una corrente filosofica che adesso è difficile definire veramente idealismo tedesco, tant'è che di solito si trova la dicitura, ad esempio nella mia università, il corso tenuto da un professore, che nel mio corso è il professor Fabianelli, con cui ho dato un esame anche recentemente su Hegel, non si chiama corso di filosofia idealista tedesca, di idealismo tedesco, ma si chiama invece filosofia classica tedesca. E questo per identificare il periodo classico della filosofia tedesca, che va dalla fine del Settecento, Kant, ecco, fino, diciamo, a Hegel, e quindi la primi decenni, primo decennio, diciamo, dell'Ottocento, sono poi i vent'anni. E questo perché sono filosofi, gli idealisti tedeschi, che, è vero, hanno in comune una questione di fondo, che adesso io introduco molto brevemente, e vedrete, si delinera il discorso che facciamo con, soprattutto, Maimon, Schulze e Maimon, ma sono diversi, hanno sistemi filosofici diversi, e quindi richiuderli, no, all'interno di una stessa categoria, o peggio, pensare a uno sviluppo per cui prima c'è Fichte, o prima c'è Schelling, a seconda di com'è la Sistemi, poi Fichte, e poi alla fine il compimento in Hegel, è una balla pazzesca, perché sono autori diversi, con sensibilità diverse, e proposte diverse. Che cosa li accomuna? Innanzitutto è una questione di metodo, che noi vedremo in Reynolds, l'idea, cioè, di una filosofia sistematica, di una dottrina delle scienze, cioè di una filosofia enciclopedica, che racchiuda a 360 gradi la realtà, sistemandola in una sorta di rappresentazione. La seconda questione, invece, è di contenuto, e cioè, appunto, l'elemento idealistico, o coscienzialistico. In che senso? Cioè, quell'idea tale per cui la realtà effettiva sia coscienza. La realtà è, in un certo senso, intrisa di coscienza. Si parla anche di panpsichismo, soprattutto per, ad esempio, il secondo Fichte, per Schelling, ma in un certo senso, vedremo anche con Hegel, in un certo senso, per questi autori, la realtà è coscienza. È coscienza. Di fatto vengono chiamati idealisti e ci sarà modo, ovviamente nel nostro percorso, ma vedremo che effettivamente, senza accadere nell'errore dello sviluppo storico, eccetera, ma, per esempio, in Hegel, vedremo come la sostanza è il soggetto, cioè, appunto, questo elemento di coscienzialità, di individualità, spiritualità, a seconda di come poi verrà chiamato nel corso, poi, dello sviluppo ulteriore anche di questa corrente filosofica. Quindi, cominciamo il percorso con Reynolds. Grazie a tutti.